Siena. 15 agosto 2023 sì. C'è anche Gianna Nannini a Siena per il Palio. Il suo distretto. Loca. Torna in piazza dopo quattro anni e qui è il bilanciere nella sua città per frequentare il Palio. Dell'Assunta. Pieno di alte aspettative a Fontebranda, grazie allo zio Fratte e al brigando giochi. Gianna Nannini ha pranzato in un ristorante a due passi da Piazza del Campo. Molti turisti e i sienesi che lo hanno riconosciuto incontrandola per strada. Salutandolo. Nelle ultime settimane. Le riprese film sulla vita del cantante che accento grave scattare Cinzia TH Torrini si era verificato a piazza. Campo. Nel frattempo. Il comune di Siena ha annunciato l'elenco degli ospiti del Palio dell'Assunta. Che assisterà alla gara della Tripor di Palazzo Palazzo. L'elenco del turismo si distingue nell'elenco Daniela Santanchè. Che sarà accolta dal sindaco Nicoletta Fabio. Sance vedrà il Palio per la prima volta in diretta. I parlamentari Tiziana Nisini. Chiara Tenerini. Erika Mazzetti. Andrea Mascaretti. Stefano Maullu e Claudio Borghi sono anche. Il quaestor Parma Maurizio Domenico. Danilo Petrucci. Un pilota motociclette. Motociclista conducente. Duccio Marsili. Campione multiplo internazionale del pattinaggio pattinaggio su una gara. Include.